Covid-19, trasferimento migranti da Ferrandina, il sindaco Martoccia riceve rassicurazioni dal governo. Regione Basilicata, la maggioranza si divide sulla gestione Covid. Turismo, i dati d'agosto sono incoraggianti, nel centro storico di Matera si rivedono i primi visitatori. Giffoni Hub Montescaglioso, la manifestazione cinematografica in programma dal 18 agosto. Basket inizia la stagione dell'Olimpia Matera, annunciato il nuovo girone. Ben trovati con l'informazione di TRM, ora una breve pausa pubblicitaria, poi torneremo con le principali notizie di oggi. Ben trovati, apriamo con il caso Ferrandina, il sindaco della cittadina materana Martoccia ricevuto dal ministro dell'interno la morgese rassicurazioni sul trasferimento dei migranti. Terminata la quarantena, i migranti saranno tutti trasferiti e il ministero si farà carico di gestire la situazione per garantire la salute pubblica degli ospiti, degli operatori e di tutta la comunità ferrandinese. Ad annunciarlo è il sindaco di Ferrandina, Gennaro Martoccia, che ieri sera ha ricevuto una rassicurazione ufficiale, in tal senso dal ministero degli interni, che fa capo alla lucana Luciana la morgese. Già nei giorni scorsi il primo cittadino del centro della Val Basento aveva sottolineato che la struttura fosse inidonea ad ospitare 100 persone, in quanto omologata per 50. La situazione infatti al momento appare complessa, i migranti all'interno dell'Old West sono diventati 69 perché 31 sono irreperibili, tra 69 i positivi risultano invece 21. In totale, ricordiamo, nelle strutture lucane, tra cui Potenza, Ersina e la stessa Ferrandina, sono 52 migranti positivi ospitati. Il numero degli ultimi tamponi effettuati in Basilicata, ricordiamo, è di 237. Dall'inizio dell'epidemia nel territorio lucano sono morte 28 persone per il coronavirus e 373 sono guarite. Le persone ricoverate restano due, entrambe nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Carlo di Potenza. In totale sono stati analizzati nel territorio lucano 49.119 tamponi, 48.524 dei quali sono risultati negativi. E ancora coronavirus, maggioranza divisa nella giunta regionale della Basilicata sulla gestione dell'emergenza. Sentiamo. La sanità lucana crea spaccature non soltanto nella maggioranza in seno al governo regionale, ma anche nella stessa Lega. Al centro delle polemiche, oltre agli ambulatori chiusi e le liste d'attesa, si aggiunge la gestione della Covid-19 a sollevare la questione al presidente della quarta commissione consigliare Massimo Zullino del Carroccio, il quale, dopo aver chiesto spiegazioni sulla nomina della nuova direttore generale del CROB, ha posto la sua attenzione sulle spese effettuate durante la gestione emergenziale sanitaria dal direttore generale del Dipartimento Ornesto Esposito. Zullino attende delucidazioni su alcune delibere di adeguamento dei compensi dei DG, su alcune attività extra, in totale su quanto è costata la gestione del coronavirus in termini di risorse finanziarie, umane e strumentali. E' necessario, aggiunge Zullino, che il direttore Esposito si presenti in commissione, dato che non lo fa da oltre due mesi. Inoltre, sottolinea, Esposito ha bloccato le attività e la programmazione, motivando questo blocco con la necessità di realizzare il piano sanitario. A prendere le difese di Esposito è Tommaso Coviello, sempre della Lega, il quale sottolinea invece il ruolo di primissimo piano avuto dal Dipartimento nella gestione della task force. Sulla stessa lunghezza d'onda, un altro leghista, l'assessore all'agricoltura Francesco Fanelli. Zullino poi chiama in causa anche l'assessore alla sanità, chiedendo di fare il tramite con Esposito, pronta la risposta di Leone, che rimarca la trasparenza dell'operato della DG. I conti, dice, sono un libro aperto, può vedere tutte le carte che vuole. Poco più tardi è arrivata la difesa di Esposito anche da parte del governatore Bardi. E ora parliamo del nuovo decreto agosto. Con il decreto Matera rientra tra le 29 città d'arte italiane beneficiarie di contributi per gli esercizi commerciali dei centri storici. Si tratta di finanziamenti a fondo perduto per le attività commerciali aperte al pubblico, per i taxi e gli NCC dei comuni, capoluogo di provincia o di città metropolitane, che rispettivamente hanno registrato presenze turistiche straniere in numero pari a tre volte e una volta superiore a quello dei residenti. Potranno ricevere il contributo le attività che, al mese di giugno 2020, hanno registrato fatturati e corrispettivi inferiori ad un terzo rispetto a quelli di giugno 2019. L'indennizzo coprirà una parte di questa differenza con uno sforzo maggiore per i più piccoli. Il 20% della differenza per chi l'anno scorso aveva ricavi fino a 400 mila euro, il 15% per ricavi tra 400 mila e un milione di euro, il 10% per ricavi superiori al milione di euro. E ancora decreto agosto. Alcune misure del DL agosto sono sicuramente positive ed accolgono sia pure in parte le esigenze delle piccole e medie imprese su tutte la decontribuzione di vantaggio per il mezzogiorno, il ricorso agli sgravi contributivi per sospingere l'occupazione, ricomprendendo per la prima volta in questa tipologia di agevolazione anche le assunzioni a tempo determinato, sia pure limitatamente al settore del turismo. Ma la crisi è profonda e serve una risposta più forte e il commento di Confcommercio Imprese Italia Potenza in una nota a firma del presidente Fausto De Mare che ricorda le tre proposte principali della Confederazione per sostenere settori a rischio chiusura del terziario su tre fronti, recuperare con urgenza le iniziative per rilanciare i consumi come bonus non previsti dal decreto, rafforzare i contributi a fondo perduto ed estendere le moratorie fiscali anche per la riapertura dei termini del saldo del primo acconto delle imposte sui redditi. E ora il turismo, i dati di agosto sono incoraggianti. Sentiamo cosa ci ha detto Gino Marchionna, presidente del Consorzio Albergatori di Matera. Oggi quello che possiamo dire è un risultato, sono dei dati un po' presi a naso quindi sicuramente dopo sette mesi di presenze e arrivi veramente allo zero che arrivavano quasi allo zero, agosto si può dire che c'è una bella ripresa per il mese di agosto, per il solo mese di agosto. Questo è dovuto alla posizione di Matera che è circondata da tantissime coste quindi parliamo della Calabria, coste della Basilicata, coste della Puglia e quindi tanti turisti che visitano queste coste all'andato oppure a ritorno quindi parliamo di turisti che vengono prevalentemente dal nord o turisti stranieri, quindi di nazioni di micro per l'Italia poi scelgono Matera per una sosta di una o due notti per cui sì, ci sono segni di presa per il solo mese di agosto settembre-ottobre invece purtroppo Matera, anzi non purtroppo quest'anno vedrà soffrire un po' il comparto perché la compagine di attività e potenza a Matera era fatta di turismo organizzato turismo congressuale e prevalentemente turismo straniero questi flussi turistici quest'anno non ci saranno quindi è veramente una situazione critica per Matera E ancora turismo, a proposito di dati incoraggianti si rivedono i visitatori nel centro storico della città dei Sassi La ripresa della stagione turistica post-lockdown c'è e si vede i numeri sono ovviamente inferiori alle previsioni e ben lontani da quelli del 2019 ma per le strade del centro storico di Matera i visitatori ci sono e nonostante in pochi abbiano suffruito del bonus vacanze il tasso di soddisfazione è molto alto Come mai avete scelto Matera? Ha influito anche la questione che la Basilicata è una regione covid free? Sì, lo sappiamo, abbiamo di recente scoperto questa notizia e abbiamo scelto Matera perché da tempo volevamo venire a vedere queste meraviglie Da clienti avete trovato una città a misura di turista o c'è stato qualche problema? Decisamente a misura di turista, sì Siamo in camper, abbiamo dormito direttamente all'interno del parco c'è un'area camper attrezzata periodo covid, non c'è la possibilità dei bagni aperti però sì, sì, si è stato bene Staremo qua un po' di giorni e un po' di giorni andremo anche in Puglia faremo tutto il giro qui intorno Sicuramente è una città che attrae era interessante vederla ci si sta rendendo conto è da ieri che ci siamo è molto bella insomma faremo un tour in tutto il sud quindi la prima tappa è stata questa proprio per partire col botto anche l'empatia è subito presente è molto piacevole perché comunque quando tu viaggi e tu trovi subito dall'altra parte come dovrebbe essere da tutte le parti ma purtroppo non è così da tutte le parti insomma è piacevole Avevamo necessità di fare vacanza non volevamo andare all'estero veniamo da Roma io avevo la curiosità da qualche anno di vedere Matera e quindi ho detto è l'occasione giusta per andare quest'anno funziona tutto alla meraviglia abbiamo visitato la città i musei, le chiese abbiamo offrito anche di visite guidate e direi che funziona tutto molto bene Avete per caso usufruito del bonus vacanze? Non ancora nel mese prossimo pensiamo di andare in vacanza anche a settembre alla faccia di chi sta a casa E il potentino Giacomo Lassorella è stato nominato nuovo presidente di Agicom Lucano, fratello della nota, giornalista Carmen il nuovo presidente dell'autorità garante per le telecomunicazioni è stato scelto dal premier Conte e dal ministro per lo sviluppo economico Stefano Patuanelli per prendere il posto dell'uscente Angelo Cardani venerdì scorso il Consiglio dei Ministri aveva approvato l'avvio della procedura per la nomina di La Sorella che laureato in giurisprudenza all'Università La Sapienza di Roma era già stato consigliere parlamentare nel 1989 per poi ricoprire per 12 anni il ruolo di capo del servizio Assemblea secondo D'Agospia dietro la nomina di La Sorella ci sarebbe la mano del ministro degli affari esteri Luigi Di Maio che avrebbe così piazzando sulla poltrona presidenziale uno dei suoi mentori dato un colpo al Partito Democratico e ora la cultura presentato a Montescaglioso il Giffoni Hub torna nella cittadina del Materano il grande cinema per ragazzi vediamo si chiama Giffoni Hub Montescaglioso ed è l'evento festival che chiude la diciassettesima edizione della rassegna cinematografica montese per ragazzi vivere il cinema tra sogno e realtà alla conferenza stampa di presentazione dell'evento presenti il direttore artistico del cinema Andrisani Giuseppe Di Sabato Salvatore Adduce presidente della fondazione Matera Basilicata 2019 e il presidente della provincia di Matera Pietro Marrese come per le scorse edizioni anche quest'anno i ragazzi più meritevoli parteciperanno come giurati al Giffoni Film Festival la più importante manifestazione cinematografica per ragazzi che quest'anno festeggia la sua cinquantesima edizione un'edizione particolare però perché a causa delle difficoltà legate all'emergenza sanitaria quest'anno sarà realizzata interamente in streaming via web tramite la creazione di numerosi hub in giro per l'Italia e per il mondo uno di questi hub è proprio quello di Montescaglioso nella storica sala del Cineteatro Andrisani dove 40 piccoli giurati provenienti da tutta la provincia di Matera potranno seguire le attività del festival della piccola cittadina del Salernitano ed esprimere le loro preferenze sui film il direttore di sabato ha annunciato che le iniziative saranno divise in 4 step a partire dal 18 agosto per terminare poi il 30 dicembre e una grandissima soddisfazione ha dichiarato siamo riusciti dopo quasi un ventennio di attività a realizzare nella nostra sede un evento di livello internazionale che porterà lustro e crescita alla città di Montescaglioso e parliamo del premio Heraclea si è tenuta ieri la Kermess delle Eccellenze Lucane seguita in diretta da TRM Network vediamo non edizione della premio Heraclea ridimensionata dalla Covid nelle presenze ma non certo nello spessore della serata per la qualità delle esibizioni e per il valore dei premiati coloro che rappresentano la Basilicata attraverso le proprie professioni Massimo Brancati tra i premiati del premio Heraclea non edizione un commento su questo riconoscimento? sicuramente mi inorgoglisce anche perché è un premio che è stato fondato tra gli altri da mio fratello Rocco purtroppo scomparso due anni fa e infatti è un premio che io dedico assolutamente a lui mi inorgoglisce, sono molto emozionato per questo evento anche perché conosco un po' tutto l'entourage che è dietro il premio Heraclea e mi ha davvero sorpreso che abbiano deciso di premiarlo Qual è il racconto che porti della Basilicata attraverso la tua professione fuori? Il racconto della cruda realtà soprattutto in riferimento all'emergenza sanitaria, al Covid mi sono occupato in questo periodo fondamentalmente proprio di questo tema come tutti i colleghi della Gazzetta del Mezzogiorno che nonostante i problemi che ci riguardano come giornale abbiamo cercato sempre di non far mancare la nostra informazione Giuseppe Calabrese, conduttore di Linea Verde, non edizione del premio Heraclea tra i premiati ci sei anche tu Ma quale onore, voglio dire per me è un grandissimo onore poter rappresentare innanzitutto la Basilicata in giro per l'Italia ma poi ricevere questo premio che ho sempre visto come uno dei premi sai, quelli più importanti della Basilicata e oggi mi trovo a riceverlo quindi sono veramente onorato La giornalista Isabella Romano tra i premiati di questa edizione un commento appunto rispetto a questo riconoscimento Beh, è una bella emozione tornare a casa fa sempre piacere poi se per queste circostanze ancora di più è un legame che si rinnova ovviamente quello con la mia, con la nostra Basilicata e fa davvero piacere, è una bella emozione Alle battute finali invece la ventunesima edizione del Lucania Film Festival evento curato dall'Associazione Culturale Alle Lammie per la direzione artistica di Rocco Calandriello Sul palcoscenico del Cineparco Tilt di Marconia nella serata finale del 9 agosto ad esibirsi sarà uno dei produttori più eclettici della scena musicale italiana Boss Doms da sempre al fianco del cantante e rapper romano Achille Lauro non solo musica per la serata conclusiva previsti alcuni talk in cui esperti del settore discuteranno e approfondiranno il tema La mafia e i giovani tra gli ospiti Edoardo Buscetta uno dei protagonisti della serie televisiva La mafia uccide solo d'estate nel corso della giornata non mancherà la visione di un'ampia selezione di opere filmiche in concorso tra corti e lungometraggi cui i vincitori saranno premiati durante la cerimonia che si terrà online a ottobre-novembre 2020 e ora lo sport inizia la stagione dell'Olimpia Basket Matera presentato il calendario della prossima stagione vediamo Inizia ufficialmente la nuova stagione per l'Olimpia Matera la lega serie B di basket ha diramato i raggruppamenti dei quattro gironi del torneo Matera inserita nel girone D con squadre calabresi, Catanzaro e Reggio Calabria Pugliesi, Nardò, Ruvo, Bisceglie, Taranto e Molfetta Campane, Avellino Pozzuoli, Napoli e Salerno e le laziali Luis Roma, Cassino, Formia e Rieti il pronti via per i ragazzi di Coccioriglio arriverà il 15 novembre 2020 data che segnerà l'inizio di una stagione quella post-covid dalla quale nessuno sa con precisione cosa aspettarsi al netto di nuovi eventuali stop a causa coronavirus la stagione regolare si chiuderà il 2 maggio lasciando spazio a play-off e play-out post-season la novità è rappresentata dall'introduzione prima del via al campionato della Supercoppa un mini-torneo a cui parteciperanno tutte le squadre della Lega B e che si dividerà in mini-gironi da quattro squadre con Final 8 finale da disputare in ottobre soddisfatti i vertici societari accogliamo con soddisfazione ha detto Cristiano Grappasonni DS dell'Olimpia l'inserimento nel girone D sostanzialmente lo stesso dello scorso anno la cosa più bella però ha detto è l'emozione di avere una data di ripartenza dopo tutti questi mesi di pausa forzata Bene, per oggi è tutto grazie per averci seguito ora vi lasciamo ad uno spazio di approfondimento tratto dalla programmazione di TRM H24 io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima edizione arrivederci ancora qui in diretta e come promesso ci colleghiamo in diretta telefonica con due fratelli Andrea ed Angelo Lisco che sono fermamente intenzionati a portare avanti un viaggio di 1200 km dalle Guglie di Milano alle Puglie anche sfruttando questa assonanza un percorso di 1200 km che loro hanno voluto chiamare Via con il Covid Via col Covid anche con un'assonanza al più famoso Via col Vento e noi ce li abbiamo in collegamento e subito li salutiamo Andrea ed Angelo Lisco ben trovati Ciao, buongiorno 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 a tutti ecco, avremmo voluto anche vedervi con il collegamento Skype però purtroppo oggi probabilmente le linee sono troppo diciamo così intasate e non riusciamo a poter far questo ma comunque scorrono delle immagini che raccontano un po' del vostro viaggio voi avete in mente un progetto un obiettivo quello di annodare due punti estremi dell'Italia proprio perché volete in qualche modo con la bellezza riprendere il passo dopo il periodo del covid-19 dopo il periodo del lockdown è così? esatto sì per chi non ha avuto io sono fratello Andrea innanzitutto il più grande ciao Andrea ciao Andrea ciao a tutti quanti a tutti gli ascoltatori allora per chi non ha avuto la sfortuna ovviamente di ammalarsi o di avere un parente o un amico colpito dal virus il problema principale è stato ovviamente sono stati due tendenzialmente l'orizzonte che è rimasto fermo ad avanzare di casa oltre a quello non si poteva andare e poi ovviamente la lontananza dei propri aspetti via col covid ci è sembrato insomma un'idea giusta per lasciarci alle spalle tutto questo e riconquistare due aspetti fondamentali socialità e paesaggio se poi il paesaggio è l'Italia ovviamente viene più semplice pensare che le mani possono essere davvero un altro giorno è un giorno bellissimo perché abbiamo scoperto davvero un'Italia straordinaria sia dal punto di vista artistico folcloristico culturale sia dal punto di vista umano ecco voi siete vi siete trasformati in due cicloturisti ecco ma nella vita chi siete? io sono il fratello Angelo il più piccolo e nella vita faccio in realtà per rispondere per chiarire insomma quello che hai detto io non mi sono trasformato in cicloturista nel senso che lo facevo già da anni ah bene io faccio l'informatico ed è chiaramente un mestiere che mi costringe a stare molte ore al giorno come potete ben immaginare seduta a una scrivania davanti a un computer quindi un po' di anni fa diciamo circa dieci anni fa un po' per il puro caso un po' proprio per questo bisogno fisico di fare come dire di mettere in moto il corpo ho iniziato praticamente a viaggiare in bicicletta inizialmente ho fatto dei viaggi diciamo di breve percorrenza diciamo sui 300 400 chilometri poi ho iniziato diciamo a mincare un po' il tiro e l'ambizione insomma e quindi diciamo che poi ho scoperto questo modo di viaggiare e da appunto dagli anni a questa parte per me è l'unico modo in cui diciamo riesco a concepire un viaggio perché appunto ho iniziato a capire quanta quanta come dire bellezza riesco a percepire in più rispetto a qualunque altro a qualunque altra modalità di viaggio ecco per rispondere alla tua domanda io appunto faccio l'informatico a Milano da ormai 14-15 anni insomma quanti chilometri avete già percorso? ormai siamo addirittura ad arrivo abbiamo scurato ieri la barriera dei 1100 chilometri quindi oggi ci mancano praticamente gli ultimi 50 prevediamo l'arrivo a Bari per l'orea di pranto dove c'è la mamma che ci aspetta con un pranto da mesi preparato da mesi noi l'avevamo avvisata che ci avevamo messo 36 giorni ma lei in per sé è stata cominciata a cucinare un mese fa invece ci aspetta poi non è stata acceso 33 giorni fa esatto quindi nonostante il vostro accento milanese le vostre origini sono pugliesi baresi assolutamente sì noi siamo entrambi nati a Bari e ci siamo trasferiti negli anni 90 per ragioni appunto legate al lavoro di nostro papà e tra l'altro negli anni proprio della Lega in cui interversava la Lega quella antiregionalista e quindi è stato inizialmente molto traumatico questo trasferimento infatti abbiamo subito anche episodi come dire di vessazione insomma come dire nei confronti dei meridionali e poi la cosa che ci colpisce ancora è che magari hanno gli stessi meridionali emigrati al nord che facevano come dire i bulli in qualche modo volevano lavare per qualche stupida ragione le loro origini e far pagare agli ultimi arrivati diciamo il questo trasferimento insomma questo è il fatto di essere avanti al nord e voi con questo viaggio state diciamo così in qualche modo anche unendo l'Italia e facendo vedere la bellezza di tutto il territorio italiano da nord a sud ecco che cosa vorreste che lasciasse questo vostro progetto via col covid oltre all'effetto rigenerante sui vostri corpi perché immagino sarete tonici molto tonici dopo 1200 chilometri percorsi in bicicletta che quale effetto vorreste lasciasse anche dal punto di vista probabilmente turistico e di promozione del territorio dunque il post covid ha sicuramente aggiunto se possibile un valore simbolico alla scelta di questo mezzo ma il tandem ci ha ricordato ci ricorda e ci insegna che nella vita si è tutti collegati cioè siamo proprio fisicamente collegati no in questo caso legati meccanicamente per usare una metafora ma comunque ecco abbiamo capito che per raggiungere grandi obiettivi e anche affrontare grandi problemi essere insieme è fondamentale quindi vorremmo che rimanesse un po' questo messaggio che l'unione appunto aiuta a superare anche le difficoltà peggiori ecco avete una storia da raccontare in chiusura di questa intervista che avete incontrato in questo lungo viaggio che cosa vi è rimasto fino ad ora cosa vi ha colpito fino ad ora di questo lungo viaggio ne avremmo moltissime in realtà e sul nostro profilo Instagram stiamo però a raccontarle tutte anche con dei video sono legate alle persone soprattutto ed è stata l'emozione più grande la bicicletta viene già percepita tendenzialmente come un mezzo poco minaccioso e quindi le persone si avvicinano ti salutano chiedono il tandem poi ha aggiunto ovviamente curiosità noi abbiamo un mezzo di tre metri quindi questo destra molto stupore nei bambini anche negli adulti ed è diventato un tramite di contatto con gli altri e da lì sono nate delle amicizie anche ieri ci siamo trovati improvvisamente a pochi chilometri dell'arrivo con un grosso problema è praticamente scoppiato il copertone del tandem ed i ragazzi ci hanno sopporso e ci hanno appunto portati verso la cicloficina più vicina da lì è nata un amicizia siamo andati a cena insieme e come sentirete dalle nostre voci abbiamo fatto molto tardi tipo siamo tornati alle tre di notte in camera infatti insomma episodi di solidarietà e di bellezza che si incontrano su percorsi così lunghi e faticosi non mancano ricordiamo 36 giorni in totale a che giorno siete voi in particolare? è l'ultimo oggi è l'ultimo giorno quindi il trentasesimo giorno è il giorno dell'arrivo insomma quello che quando parti non sai mai se riuscirai come dire ad affrontarlo perché quando parti guarda questo brivido c'è sempre io che appunto lo faccio da tanti anni per quanto tu possa organizzare bene un viaggio sai benissimo che puoi avere un imprevisto che sia come dire di natura fisica o appunto organizzativa di qualunque tipo quindi oggi diciamo quasi siamo un po' siamo felici perché sappiamo che raggiungiamo il traguardo arriveremo a Bari dove ci saranno tante persone ad aspettarci a manifestarci il loro affetto però allo stesso punto siamo un po' tristi perché sappiamo insomma che stiamo per finire questa esperienza questo insomma bene io vi ringrazio entrambi vi faccio i complimenti per questa bella iniziativa che deve essere in piedi che avete portato avanti con tanto impegno immagino in questi 36 giorni grazie anche per le immagini bellissime che ci avete fornito che raccontano parte del vostro viaggio delle tappe che avete toccato grazie per essere stati con noi ma grazie a voi tantissimo e alla prossima sempre in Puglia possibilmente alla prossima pedalata alla prossima pedalata tra Basilicata e Puglia ah perfetto vi aspettiamo in Basilicata allora benissimo è una regione stupenda tra l'altro ma ci sono ci sono delle belle salite qua sì 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 lo so perché avevo fatto qualche anno fa a Basilicata a questo corso mi sono in bici mi sono innamorato della vostra regione io credo che sia davvero offre dei panorami meravigliosi incredibili unici infatti adesso molliamo la bicicletta recuperiamo i genitori e partiamo per la Basilicata in macchina in macchina però bene allora vi aspettiamo in Basilicata grazie per essere stati con noi grazie a voi grazie a voi buona giornata ci vediamo